Butta a Buzzi, il numero 11, Buaventura, Well, il destro addosso a Micheletto, la porta è vuota, il destro di Alessandro Patias! Esordio con gol per il numero 9, 2 a 0, Real San Giuseppe al minuto 17. L'intercetto è poi a porta vuota, uno come Patias, difficilmente sbaglia, 2 a 0.